Ciao a tutti, io sono Rubè Agusto, responsabile Ufficio Comunicazione Movimento 5 Stelle per quanto riguarda le commissioni difesa esteri e politico europee. Oggi i deputati del Movimento 5 Stelle e della commissione difesa in particolare, nonché il capogruppo Giuseppe Brescia, vi illustreranno il loro documento sull'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma e la loro proposta di legge sul libro bianco. Avrei l'intervento Giuseppe Brescia e seguiranno poi gli interventi gli altri deputati. Ovviamente sono accettate domande al termine della conferenza. Grazie a tutti voi per essere qui, io sono qui in qualità di capogruppo solo per un breve intervento introduttivo per dire che stiamo presentando questa indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, finalmente un'indagine approfondita durante la quale si sono scoperti dei dati molto interessanti in termini di bilancio di difesa. E' stata un'indagine approfondita anche su uno dei temi che noi ci siamo impegnati ad affrontare sin dall'inizio, che è quello degli F-35, come ben sapete siamo stati promotori all'inizio insieme a pochi altri di una mozione per l'uscita dell'Italia dal programma degli F-35 e dopo la bocciatura di quella mozione da parte delle forze di maggioranza, che seppur in campagna elettorale si spendono tanto, poi alla prova dei fatti vengono meno, noi ci siamo impegnati a continuare, non abbiamo mollato e ora infatti dopo questa indagine conoscitiva e dopo una risoluzione in commissione presenteremo una nuova mozione in aula per l'uscita dell'Italia dal programma F-35. Tra l'altro abbiamo anche depositato una legge sul libro bianco e nella nostra nuova mozione sugli F-35 prevediamo anche delle misure per evitare che si perdano posti di lavoro perché quella era una delle critiche che veniva mossa a chi sostiene la posizione che l'Italia possa fare a meno degli F-35. Insomma poi con la nostra proposta sul libro bianco daremo anche la possibilità al Parlamento di poter essere incisivi sulla programmazione, sul bilancio della difesa. Per tutti gli approfondimenti ad ogni modo ora ci sono i componenti della commissione difesa Luca Frusone, è arrivato anche il capogruppo di Luca Rizzo e Massimo Artini. Lascio la parola a loro. Buongiorno a tutti, io sono appunto il vicepresidente della commissione difesa e insieme a tutti i componenti della commissione abbiamo sviluppato questo documento che è come dire un addendum, una valutazione ulteriore rispetto a quella è stata tutta l'indagine fatta durante l'indagine conoscitiva che è durata dal 17 di luglio fino al 19 di dicembre con un primo documento e sta in una fase di valutazione poi vedremo a che punto siamo in questa fase dell'indagine che è propedeutica anche a valutare quelli che sono gli aspetti fondamentali e all'attenzione di tutti sulla parte della difesa penso al discorso dell'F35 ma non solo nelle varie spese. Come è stato affrontato questo lavoro? Il lavoro è stato affrontato ad ampio spettro e per far sì che vengano scritti certi numeri che nella maggior parte dei casi sono fumosi sia sugli F35 sia in particolare sul bilancio della difesa sia anche da un punto di vista più generale e politico sugli aspetti che riguardano la parte internazionale e degli accordi internazionali penso alla Nato e penso all'Unione Europea che vanno a impattare su quelle che sono le proiezioni che abbiamo verso l'estero cioè missioni internazionali che sono state fatte negli ultimi 10-15 anni. È stato un lavoro intenso nel senso che sia durante l'indagine ma anche oltre l'indagine. Il gruppo ha avuto la volontà, la forza, la capacità di voler andare non solo nella parte di commissione a studiare questi argomenti ma è andato oltre è andato oltre e si è praticamente in questo anno istruito girando l'Italia e non solo l'Italia per capire come funzionavano tutte queste proiezioni, queste propaggini della difesa. La presentazione della conferenza stampa non riguarderà tutto il documento che avete a disposizione che è il documento che è presentato in commissione ma ci focalizzeremo sui punti più fondamentali. In particolare l'obiettivo del documento era appunto dare risposte che pochi, se non penso in particolare a centri studi come le reti di disarmo, pochi danno con chiarezza. Alcune informazioni in particolare che riguardano il caso, poi Luca ce ne approfondirà particolarmente dopo, il caso della 244 è abbastanza emblematico perché la 244 per chi non ne fosse perfettamente informato è quella legge delega voluta dal Ministro Di Paola che riforma tutta la parte a bilancio invariato, la parte di personale e investimenti e esercizio del bilancio della difesa. Ci siamo accorti che i dati su cui è basata quella legge sono strutturalmente sbagliati e che quei dati non li abbiamo detto noi ma tutte queste informazioni derivano da quell'indagine. Non ultima l'audizione del dottor Cottarelli, commissario della Spending Review che ha valorato le nostre tesi. Infatti il ragionamento da fare è in primo luogo sul quadro generale e internazionale su cui ci troviamo a lavorare. Il quadro è un discorso di un rapporto d'alleanza atlantica con il patto Nato che negli ultimi 20 anni dopo la caduta del muro di Berlino ha stravolto quelle che erano le sue funzioni di autodifesa relative a quelle che è l'artolo 5 del trattato del 49. In particolare, se vogliamo essere più precisi, si è voluto virare quella che era la missione del patto atlantico verso un discorso di controllo preventivo e guerra mirata in delle situazioni, penso all'Iraq, penso all'Afghanistan, penso a tutte le varie missioni che hanno avuto come primario attore la Nato che hanno dato questo tipo di impulso diverso. Questa valutazione fatta anche con i medesimi ambasciatori della Nato, questo spunto non è fuori da un'indagine sui sistemi d'arma perché il rapporto Nato, e lo vedremo sulla parte bilancio, è fondamentale per capire quant'è l'investimento che noi siamo obbligati a fare a livello annuale per mantenere certi standard per rimanere in quel tipo di patto. L'F35 è emblematico, è emblematico perché, e lo vedremo, quelle che sono le funzioni di quello strumento sono mirate a rispondere a esigenze più Nato che a livello di difesa e di obiettivi italiani. E ora uno dei pezzi più divertenti e forti di questa indagine cioè il fatto del bilancio della difesa. Lascio la parola a Luca su questo aspetto. Sì, grazie a tutti per essere qui oggi. Come già diceva Massimo, il rapporto particolare che noi abbiamo con la Nato va ad incidere profondamente su tutte le nostre scelte per quanto riguarda la difesa e paradossalmente quando dovremo ascoltare la Nato per altre situazioni invece facciamo di testa nostra. A cosa mi riferisco? Proprio al bilancio della difesa perché noi abbiamo un bilancio del Ministero della difesa che ammonta all'incirca 20 miliardi di euro, noi li abbiamo arrotondati per praticità, però allo stesso tempo ci sono degli altri fondi stanziati che sono di altri ministeri come per esempio nel Mise, come per esempio anche nel MIUR e quindi proprio la Nato, se noi andiamo a vedere le linee guida della Nato per costruire un bilancio della difesa, secondo la Nato queste cifre dovrebbero essere inserite all'interno del Ministero della difesa, quindi quando per alcune cose l'ascoltiamo la Nato, per altre cose quando ci fa comodo invece non l'ascoltiamo e noi da un'analisi che abbiamo fatto andiamo a vedere che appunto il bilancio totale è di 25 miliardi, tornando alla 244 che noi abbiamo chiamato caso 244 va a rivedere tutta la spesa della difesa dividendo per i tre settori, cioè quello dell'organico, quello dell'esercizio e quello degli investimenti una spesa divisa nel 50% per l'organico, 25 e 25 per le altre due voci. Adesso non serve una laurea alla Bocconi per capire che se si parte da un numero iniziale sbagliato poi ci saranno completamente dei numeri diversi, quindi se partiamo da 20 miliardi come bilancio della difesa andiamo a vedere che il personale incide per il 70%, l'esercizio per il 12% e gli investimenti solo per il 18%, mentre se andiamo a vedere una cifra molto più alta come 25 miliardi inserendo anche le altre voci andiamo a vedere che il personale scende al 58%, l'esercizio rimane al 12% che è sempre la cenerentola del bilancio della difesa e gli investimenti invece salgono al 30% e quindi capite bene che tutte le iniziative intraprese per rivisitare questo strumento militare se si basano su dei dati inizialmente sbagliati ci portano poi a delle scelte completamente sconclusionate e questa è in un certo senso potete vedere dalla slide successiva, ci porta anche ad un'altra riflessione che ci è arrivata proprio dall'audizione con il dottor Cottarelli perché appunto lui portava dei dati diversi, quelli che un bilancio senza la funzione sicurezza dei carabinieri che a questo punto va a risolvere ancora, va a modificare ancora di più il quadro da cui dovremmo partire perché noi andiamo a vedere senza carabinieri solo con il ministero della difesa partiamo da 14 miliardi quindi già qui in questo caso solo con il bilancio della difesa partiamo da delle percentuali completamente differenti da quello dei famosi 20 miliardi di prima, abbiamo un 62% per il personale, un 16% per l'esercizio e un 22% per gli investimenti, se a questo punto inseriamo quei fondi che vengono utilizzati per gli investimenti, per lo sviluppo e la ricerca per esempio per F35 o per le emissioni e le aggiungiamo a questi 14 miliardi arriviamo a un 19 miliardi che vanno completamente a modificare le percentuali di cui ho parlato quindi andremo al personale che incide meno per il 50%, un 48,40, io ricordo sempre che sono un po' arrotondate queste cifre perché altrimenti visto che si parlano di miliardi dovevamo stare lì con i numeri periodici. L'esercizio incide per il 14,20% e gli investimenti arrivano ad un 37,40%, allora ad oggi quando ci dicono che bisogna investire nella difesa, nell'industria della difesa che non investiamo abbastanza e c'è anche un discorso sulla Nato che dicono che non arriviamo al 2% ma questo lo tratteremo anche dopo, se partiamo da questi numeri vediamo bene che c'è sì bisogno di una riforma dello strumento militare, di un'area di organizzazione perché effettivamente si può sempre migliorare ma a questo punto ci troviamo in una situazione in cui investiamo moltissimo in sistemi d'arma senza però poi avere e questa è la conclusione di questa indagine conoscitiva, senza avere poi i soldi per poter utilizzare questi sistemi d'arma che noi compriamo. In poche parole qui siamo tantissimo ma poi come posso dire compriamo una Ferrari ma poi non abbiamo la benzina da metterci dentro quindi a che pro tutto questo va ad inficiare l'operatività delle nostre forze armate, va a utilizzare delle risorse che potrebbero essere utilizzate per altri settori anche più produttivi e quindi questa è una critica che facciamo al modo con cui è stata portata avanti questa riforma che è partita praticamente zoppa partendo da dei numeri completamente sbagliati. Posso fare un appunto sul discorso della 244 e su questi dati, la 244 rimodula di quasi 50.000 persone le quote dentro il personale sia militare che civile, da questi numeri non sarebbe stato necessario questo tipo di rimodulazione o comunque sarebbe stata completamente diversa, il che vuol dire che ti vai a impattare sulla vita di 50.000 famiglie senza avere avuto quella valutazione di dati concreta. Quindi questo è un punto di riflessione da fare visto che la riforma 244 va a estendersi fino al 2024. Procedendo e volendo dare un'impressione più generale a quella che è stata tutto il comparto della difesa, noi abbiamo diviso l'indagine trattandola nelle tre forze armate e nella gestione generale fatta dal Stato Maggiore della Difesa. Quindi come difesa abbiamo trattato quegli strumenti che vengono utilizzati a livello interforza, penso ai poligoni, verso al progetto di Forza NEC che abbiamo valutato dando anche lì delle valutazioni più concrete, è stato decisamente trattato poco durante l'indagine. E un altro punto molto fondamentale è stato la parte di sicurezza cibernetica. La sicurezza cibernetica, ovvero la difesa dagli attacchi informatici, è stata completamente ignorata al netto di alcuni spunti di nostra riflessione che è stato volutamente portato. E' importante saperlo a livello internazionale, ormai neanche il terrorismo è più la maggiore causa di problemi o di mancata sicurezza, ma è la parte cibernetica che è fondamentale. La parte cibernetica ha un vantaggio a costi molto più bassi e quindi ha implicazioni completamente diverse rispetto a sistemi di arma molto più onerosi. Uno spunto simpatico che trovate nell'indagine è la definizione di quello che è il nostro surplus in mezzi. C'è un'interrogazione del senatore Marton fatta al Senato che ha elencato tutti gli strumenti, i sistemi d'arma che noi abbiamo a disposizione, per cui anche i mortali della Seconda Guerra Mondiale, carri armati della Seconda Guerra Mondiale, che noi dobbiamo comunque stoccare, mantenere e avere, non dico operativi, ma presenti nell'esercito. E' un ragionamento che anche a livello internazionale è necessario perché dobbiamo pubblicare quelli che sono i nostri mezzi presenti. Già solamente riuscire a eliminare questo surplus darebbe all'Italia già la possibilità di razionalizzare questo tipo di sistema. In più, una componente fondamentale che tocca quasi un miliardo e duecento milioni è la parte di emissioni internazionali. Noi ogni anno, mediamente, negli ultimi anni, spendiamo circa un miliardo e duecento milioni. La cosa abbastanza preoccupante è che, a prescindere dalle emissioni che facciamo, l'Afghanistan non meno, anche a riduzioni corpose del personale presente nelle emissioni, non abbassa il livello di spesa nelle emissioni internazionali. Questo perché, questa è la valutazione che ci è venuta naturale, perché la emissione internazionale, oltre all'obiettivo che manca, e quindi la necessità, come stiamo facendo, di una legge quadro che la riformi, è necessaria alle forze armate per mantenere e avere quei soldi che non fanno parte del bilancio della difesa perché fanno parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per avere quei soldi per mantenersi approdati. Altrimenti l'esercito non avrebbe i soldi per o mantenere i mezzi o mantenere il personale aggiornato. Quindi anche su questo c'è da fare una riflessione importante e la legge quadro, già in, volutamente, fortemente votata anche da noi e già incardinata in Commissione, è un qualcosa che dovrà essere visionato velocemente. E ora veniamo alla parte clou delle varie opzioni. Noterete che usiamo parole tutto durante l'indagine. Vai Luca. Bene, adesso arriviamo al Casus Belli, all'F35. Noi abbiamo, senza dubbio, è stato l'argomento più trattato in questa indagine conoscitiva e c'è stata data la possibilità di capire effettivamente a cosa possa servire l'F35 all'Italia. Potete vedere dalle slide che ci sono alcune, diciamo, citazioni. Partiamo dalla prima, quella del proiettile d'argento, è stata una citazione fatta dal dottor Margieletti in Commissione, perché appunto l'F35, le due capacità di punta dell'F35, cioè che lo differenziano dagli altri, è senza dubbio la capacità stealth e poi ricordiamoci che è un vettore nucleare, quindi è un aereo per lo strike nucleare con capacità stealth, cosa che ad oggi noi abbiamo già un vettore nucleare, che è comunque il tornado, ma allo stesso tempo non ha una tecnologia stealth in grado da penetrare le difese più importanti del mondo e quindi mi riferisco per esempio a Russia e Cina. Quindi ad oggi noi dobbiamo farci questa domanda e ritorniamo al discorso prima della Nato, l'Italia come potenza che è leader nel settore della non proliferazione nucleare, cosa se ne fa di un aereo che è un vettore nucleare ed è utilizzabile per questo tipo d'attacco, cioè il primo strike nucleare? Beh forse questa è un'esigenza che ha più una superpotenza come gli Stati Uniti e non una potenza come l'Italia e quindi ritorna il discorso della Nato dove noi poco alla volta abbiamo superato quel concetto di difesa comune che tanto caratterizzava il patto atlantico e siamo passati in un certo senso come siamo arrivati ad essere quasi un avamposto, ma lo eravamo anche prima, ma quasi un avamposto per gli Stati Uniti in questo caso per avere una deterrenza nucleare che però come Paese Italia non ci appartiene perché ricordo appunto come noi abbiamo detto addio al nucleare, quindi assolutamente noi ribadiamo il nostro secco no a questo programma proprio perché non vediamo nemmeno al di là dei cosi, dei problemi che porta questo problema nel concetto strategico di questo strumento d'arma che non si sposa assolutamente con le esigenze e con le idee che ha l'Italia sulla difesa che sono ben scritte in Costituzione. Dopodiché ci sono, arriviamo agli altri punti, anche la citazione di costruttori intelligenti viene da un'audizione che abbiamo avuto in commissione durante l'indagine conoscitiva perché appunto noi siamo meri costruttori intelligenti nel senso che noi abbiamo comunque la FACO a Cameri assemblerà le ali degli F-35 ma comunque tutta la tecnologia che riguarda questo aereo rimarrà sempre nelle mani degli Stati Uniti, quindi noi semplicemente andiamo ed assembliamo come se fosse un Lego, quindi tutta la possibilità di sviluppo tecnologico che dà questo progetto noi assolutamente lo perdiamo e quindi a questo punto non abbiamo nessun risvolto tecnologico in questa scelta su questo progetto d'arma e non abbiamo nessun accesso alle tecnologie nel senso che non saremo in grado di modificare questo progetto, anzi abbiamo anche alcuni problemi derivanti proprio dalla tecnologia stealth, nella FACO c'è un'area US only, cioè solo gli Stati Uniti possono entrare in quell'area perché appunto è quella che riguarda la verniciatura e la tecnologia stealth, beh in quel caso anche nel caso in cui ci fosse un danneggiamento di questa verniciatura dovremmo sempre riportare questo aereo per la manutenzione alla Lockheed perché non abbiamo appunto nessun accesso alla tecnologia, mentre è assurdo questo perché io ricordo sempre che l'articolo 11 cede sovranità a delle organizzazioni sovranuazionali in condizioni di uguaglianza, noi non abbiamo accesso, mentre Israele che non ha investito non è come noi partner di questo progetto, che non ha investito nello sviluppo degli F-35 ha ordinato solo 19 aerei ad un prezzo chiaro di 2,75 miliardi, ha ottenuto la possibilità di integrare armi, sistemi di guerra elettronica, sistemi di comunicazione, comando e controllo nazionale, cioè quello che chiudevamo noi, anche perché ci è stato proprio detto in audizione che l'F-35 nel momento in cui non possiamo accedere alle tecnologie è un grandissimo passo falso, è un'enorme occasione sprecata, quindi anche ritornando al discorso dell'uguaglianza quando si parla di altri soggetti hanno questo accesso tecnologico, mentre noi nonostante siamo partner di secondo livello, nonostante investiamo moltissimo, non abbiamo assolutamente l'accesso a queste tecnologie. Adesso passo la parola a Massimo che ci farà una disamina dei costi sostenuti fino ad oggi, perché comunque sugli F-35 si è detto tantissimo ma alla fine molti dati erano errati ed hanno messo anche gli addetti ai lavori in condizioni particolari perché si ritrovavano a dover rispondere a degli articoli, determinate cose dette da persone che non hanno mai sostenuto una seria attività di informazione su questo programma. Dunque, l'introduzione di Luca è molto importante perché ci dà la capacità di valutare quelli che dovrebbero essere l'investimento su questo progetto e del perché è opportuno da un lato sospendere, rinegoziare la parte industriale dove si è speso quasi 3 miliardi di euro e arrivare a un punto in cui uscire dal progetto, che è poi quello che dovrebbe essere la nostra mozione che verrà presentata, con la conversione della risoluzione già presentata. Per avere questo tipo di informazioni, il nostro gruppo cosa ha fatto? Ne più nemmeno è stato l'unico che ha visitato in maniera diretta e almeno per due volte quella che era la Facility, la FACO, su a Cameri. L'accesso, e questo così almeno tolgo ogni dubbio da qualsiasi tipo di speculazione, quello che ha detto Luca è il fatto che noi non abbiamo un ritorno industriale così potente, non è assilabile a quello che viene comunque detto alla difesa, cioè che comunque costruiremo ali, che comunque assembleremo aerei. La parte strutturalmente tecnologica, ovvero le parti più fondamentali, quelle sono le componenti che danno lo stelt alle giunture delle ali, alla parte elettronica, eccetera, rimane di stretta proprietà statunitense. Anche la sala anecoide dove fanno la taratura dello stelt verrà, come ci è stato riferito anche dal direttore dell'armamenti aeronautici, verrà utilizzata dagli italiani, ma le tecnologie che nascono per strutturare quel tipo di aria non sono di nostra proprietà e non lo saranno mai. Quindi facciamo un punto chiaro di quello che è la valutazione dei costi, di qui al 2050 indicativamente. Sempre a detta della direzione nazionale degli armamenti, della direzione degli armamenti aerei per essere precisi, noi dobbiamo sviscerare i costi in due settori, la parte di sviluppo che vale per circa un 30% e la parte di manutenzione e aggiornamenti che vale per circa un 70%. Quindi al momento noi abbiamo pianificato nel 2002 una spesa di circa 13 miliardi di euro che riguarda solamente la parte di sviluppo e di gestione dei software. Questa parte qui, in particolare, cosa va a definire? Noi abbiamo già speso al momento, per la parte che non riguarda gli aerei, quindi lo sviluppo degli aerei, abbiamo speso già 2,7 miliardi di tre previsti e sono andati nella FACO, pagati, nella parte di produzione, sostenimento e avanzamento dello sviluppo. In più abbiamo altri 800 milioni per la parte di struttura e 400 milioni per la parte di adeguamento infrastrutturale delle basi e dell'aeronautica, fra cui per esempio Grottaglie, il Cavour e altri 3,6 milioni per la base dei Cameri. Quello che è l'impatto enorme sulla economia italiana è questo danno che nel 2002 politici, che poi l'hanno revisionato nel 2007-2008, hanno voluto fare all'industria italiana e all'Italia, perché noi abbiamo pianificato di spendere un qualcosa come 13 miliardi in un qualcosa che, come diceva Luca, non ha delle finalità concrete per quella che è la difesa del nostro territorio. Un ultimo spunto, lo volevo fare, su quella che è stata una parte più odiosa e ingarbugliata nell'anno in cui abbiamo fatto l'indagine, ovvero come vengono acquistati questi strumenti. Questa è la parte che più ci preme. Quando viene detto tagliamo di metà il numero, come ha fatto di Paola, degli F-35, noi ci siamo messi a ridere una volta saputo come vengono acquistati gli aerei. Gli aerei vengono acquistati a botte di 2, 3, 4 aerei a volta, per cui se io spendo per 4 aerei a volta e ne riduco a 45, ho 10 anni di tempo per arrivare a 45 aerei, quindi senza fermare nessun tipo di progetto. Qual è il ragionamento da fare? Il ragionamento di mezzare i fondi che sono presenti o non solo di mezzare in questa fase, ridurli fino al punto zero. La fase, finisco, da queste due definizioni LRIP e FRP, che sono due definizioni fondamentali. La fase LRIP è quella che possiamo definire artigianale, in cui l'aereo è costruito a un rateo di 6-7 aerei al mese a confronto della fase full rate, che dovrebbe essere indicativamente di 22-30 aerei al mese. Questa è una fase in cui l'aereo è in una fase di, diciamo così, di prototipo. E quindi questa funzione, questo tipo di situazione, è quella che noi ora stiamo cercando di combattere, cioè levarsi dalla fase LRIP per passare direttamente ad un acquisto in fase full rate production, darebbe direttamente all'Italia un risparmio enormi, perché i costi che ci sobbarchiamo in questa fase sono enormi. Vado avanti e tratto degli altri due settori fondamentali che impattano molto sulla difesa, ovvero l'Eurofighter, il Typhoon, e gli UAV, cioè gli aerei a pilotaggio alle moto o anche detti droni. Sull'Eurofighter, e vado molto velocemente così, recupero il tempo perso, sull'Eurofighter l'unico appunto che dobbiamo fare è che noi abbiamo al momento 76 Eurofighter in linea, tutti tecnicamente o ammodernati o diciamo dalla tranche 1 alla tranche 2 in funzione e operativi. Abbiamo in vista di cui alla fine di giugno, se non sbaglio, la possibile acquisizione della terza tranche, la tranche 3B, che avrebbe un costo impressionante. Considerate l'Eurofighter ci ha costato 21 miliardi di euro tra acquisizione e attuale ammodernamento. Sull'Eurofighter l'unico appunto che ci premiamo di fare è che non si devino i soldi che sono previsti sugli investimenti dell'F35 per continuare il progetto dell'Eurofighter, perché altrimenti sarebbe una mera partita di giro che non serve a nessuno e quei soldi devono andare da altre parti, né più né meno. Sulla parte dei droni, solo per fare un appunto di quello che può essere lo sviluppo non armato di questa parte. Io so che il Ministero della Difesa, mettiamola in questi termini, ha la necessità di avere questo tipo di strumento anche armato, ma non è, per come la vediamo noi del Movimento in queste stelle, né gli obiettivi di difesa dell'Italia. Avere però dei sistemi che ci permettano, come per esempio dalla richiesta di alcuni nostri colleghi, controlli sul territorio come per esempio una terra dei fuochi, potrebbe essere sistemi che danno di più all'Italia. E veniamo a una parte fondamentale che è quella sulla Marina, perché uno non ne parla mai ma gli investimenti fatti sulla Marina sono anche più impressionanti e nel lungo termine rispetto a quelli che vengono fatti su F35, Eurofighter no perché sono veramente costi assuti. La domanda fondamentale è che della Marina vogliamo una proiezione che ci permetta di portare il nostro esercito all'estero oppure vogliamo che rimanga compartimentata in quello che è il mar Mediterraneo e la difesa delle nostre coste. Perché se non vogliamo la prima parte noi di netto risparmiamo 3-4 miliardi di euro. Questo è. Perché le capacità che sono offerte da determinati strumenti, da determinati sistemi, penso la porta aerea di Cavour, sono necessarie solamente se la nostra ambizione è quella di voler essere presenti in teatri come l'Afghanistan e poter proiettare i nostri eserciti laggiù. Ora a questa domanda ci rispondiamo vedendo quella che è la situazione attuale del Paese. Per quanto riteniamo eccessivo l'impiego di troppe forze nella missione Mare Nostrum, noi siamo stati tra i primi a essere presenti proprio giù a Lampedusa, io Frusone e Rizzo, ad agosto dell'anno scorso a vedere qual era la situazione. In una situazione non emergenziale come è stata fatta inventare in Mare Nostrum, la presenza di un unico pattugliatore o di al massimo due era veramente limitata e anche gli strumenti che sono presenti potrebbero essere indubbiamente ammodernati, riducendo contemporaneamente il costo del personale quando vai a utilizzare strumenti nuovi, ma non nell'impatto enorme di 6 miliardi e rotti che è stato previsto nell'ultima finanziaria. La missione Mare Nostrum è sembrata voler essere lo spot per poter permettersi di finanziare anche quel tipo di missione. Uno spunto sul personale civile e sugli arsenali, in particolare Taranto, io ho avuto l'opportunità di visitare quella base che, ho visto anche Beirut, ho fatto il paragone e Taranto è messa peggio. Cioè noi abbiamo per quel problema di bilancio, cioè il fatto che l'esercizio non è valutato per quello che dovrebbe essere, cioè i soldi per mantenere quelle sono le strutture e renderle efficienti e magari non esternalizzare dei costi e mantenerle all'interno, ci sta distruggendo sia la parte di strutture sia la parte di personale. Il personale civile che non viene reimpiegato, non viene formato, non c'è un passaggio di competenze, si sta perdendo tutta questa parte di competenze e si sta iniziando a spendere valanghe di soldi per questo tipo di problema. E un appuntino sul Cavour va sempre fatto. Prego Luca. Sì, come ha detto Massimo, il caso Cavour è emblematico proprio di come in difesa non si programmi nulla, nel senso che ad oggi noi sentiamo dirci che gli F35B, cioè quelli a decollo verticale, ad atterraggio verticale scusate, a corto decollo, ci servono perché altrimenti abbiamo il Cavour. Allora a questo punto, considerando che il Cavour è una porta aeromobili e quindi ha una capacità di proiezione che è diversa da un pattugliatore per esempio che può essere impiegato per il pattugliamento pesca, che può essere impiegato per dare sicurezza ai flussi migratori, è una scelta a suo tempo per noi assurda ed oggi addirittura ci viene giustificato l'acquisto degli F35 che costano comunque di più rispetto agli A, di circa 30%, questo acquisto degli F35B ci viene giustificato dicendo che altrimenti il Cavour sarebbe inutile, anche perché fino ad oggi lo abbiamo utilizzato come bancarella galleggiante facendogli fare un bel tour finito qualche settimana fa dove si faceva pubblicità da alcune aziende italiane e straniere. Quindi assolutamente questo ci fa capire come vengono intraprese le decisioni all'interno della difesa e noi adesso stiamo sostenendo dei costi proprio per ammodernare il ponte del Cavour che deve comunque ospitare questi F35B e quindi ci sono stati spesi determinati soldi per, non dico riammodernare, però per rendere possibile l'atterraggio degli F35B su questa porta aerei e quindi considerando che solo gli F35B ci costano oltre 2 miliardi di euro, pensare che ne abbiamo spesi anche di più per il Cavour, per poter farci atterrare questi aerei che non ci servono, insomma capite bene che c'è un cortocircuito di logicità nelle scelte che sono state fatte nel tempo. E' importantissimo, arriviamo al nostro ultimo punto, il cosiddetto libro bianco di cui ce ne parlerà Massimo. Sì, è una proposta di legge che è naturale, cioè che io mi sono chiesto ma perché è dal 93 che non ci sono proposte di leggi analoghe che consentano al Parlamento di controllare quella che è una politica di sicurezza e difesa e la programmazione degli armamenti. E da questa domanda è venuta fuori una legge che prevede proprio questo, è uno dei primi atti parlamentari di conseguenza a quest'indagine, ovvero un qualcosa che preveda ogni sei anni un lavoro congiunto e robusto tra Governo e Parlamento per creare un documento che definisca quelle che sono le politiche di difesa e sicurezza del Paese nell'arco di vent'anni, aggiornato quindi ogni sei anni. Da quello dovrebbe derivare una legge di programmazione degli armamenti che dovrebbe essere approvata direttamente dal Parlamento ed ogni tre anni dovrebbe essere rivalutata sulla base di quegli che sono gli obiettivi di quella che era il libro bianco sviluppato. Voi considerate molto semplicemente che sono undici anni che non viene fatto, scusatemi, dal 2001, quindi sono tredici anni che non viene fatto un libro bianco sulla difesa, cioè noi stiamo basando le nostre scelte di difesa su politiche del 2001. Il mondo è completamente cambiato, il mondo ha visto quelle scelte erano scellerate e quindi non dobbiamo, come ho sempre detto anche al Ministro Pinotti e anche al Ministro Mauro in precedenza, aspettare un Ministro che ha la voglia di fare questo libro bianco. Deve essere un qualcosa che la legge prevede in maniera sistematica, così come fa la Francia, così come fanno gli Stati Uniti. Dobbiamo anche in questo diventare un Paese che sia il più, diciamo, a livello legislativo il più aggiornato possibile, perché se ti dai la possibilità al Parlamento e quindi ai cittadini, perché poi, lo vedremo successivamente, la legge ha un punto fondamentale nella sua parte di creazione del libro bianco, cioè un rapporto profondo con la parte di cittadini e di cittadinanza attiva su questo tipo di argomento. Quindi questa proposta, io spero, ed è la nostra intenzione, venga incardinata prima che il Governo, e peraltro ci stiamo chiedendo da chi il Ministro Pinotti che lo sta declarando un po' ovunque e con chi sta creando questo libro bianco, perché al momento non ne abbiamo informazioni, non ci sono centri studi che la stanno coaduivando, non si è capito bene chi sta lavorando su questo tipo di documento. La legge serve a fare questo, potrebbe essere un buon viatico, un buon initio per fare un ottimo lavoro sul prossimo libro bianco, per poi farlo diventare strutturale. Gli altri atti a conclusione dell'indagine che derivano da questo nostro lavoro e vado a concludere sono semplicemente atti che riguardano sia gli F-35 che gli Eurofighter, ma anche la parte di per esempio Sottomarini. In particolare, sull'F-35 già a febbraio, in previsione di quello che deve essere la fine dell'indagine e qui non me ne voglia nessuno di altre forze politiche, ma noi siamo ad oggi a valutare queste indagini perché certe forze politiche, in particolare il Partito Democratico, non ha la forza di definire un punto e io spero che il prossimo maggio, il 7 maggio, dovremo finire questo documento, io spero vivamente, altrimenti sarebbe imbarazzante rivedersi su Repubblica un'altra volta, una paginona intera in cui c'è il piano segreto, poco segreto, di come fare sull'F-35, noi da febbraio abbiamo già presentato una risoluzione che sulla base dei dati di febbraio prevedeva la sospensione e il blocco. Qual è la novità? Ora con nuove informazioni, non solo la sospensione attuale per non spendere più già soldi, una rinegoziazione fatta con il Joint Program Office a Washington per il progetto F-35 per non perdere, come diceva giustamente Luca, quella purtroppo capacità industriale che ci troviamo, perché quella capacità industriale c'è, ci è spettato spesso 3 miliardi e su quella bisogna valutare cosa farne, perché è un problema che uno si ritrova sul groppone né più né meno. Ed infine l'uscita dal programma, questo solo di risparmi singoli sono 1 miliardo fino al 2020, lo stesso vale sull'Eurofighter perché è stato un argomento discluso ma non definito per bene durante l'indagine, quante sono le penali e se ci sono le penali, perché Casolini che era rappresentante del progetto Eurofighter disse che l'industria aveva preso accordi con il governo italiano per evitare le penali qualora avessero trovato acquirenti esteri, quindi anche questa spada del damol che alcuni ministri, penso anche a volte succede o altri parlamentari ci mettono addosso, ci dà la possibilità, non ci, vogliamo capire se è vera oppure no. Io vi invito a prendere il documento che è indubbiamente corposo e se ci sono domande di ben volentieri. Aggiungo un'altra attività che vogliamo portare avanti che riguarda i poligoni militari, noi torneremo anche su questo aspetto che è stato trattato, c'è anche un'indagine conoscitiva sulle servitù militari attualmente in Commissione perché comunque la nostra terra, soprattutto alcune zone sono pesantemente colpite da questo fenomeno delle servitù militari, quindi anche in questo caso riconsiderando le organizzazioni sovranazionali come è nato ma anche in questo come Unione Europea. A questo punto un'equa ridistribuzione di queste servitù militari penso che sia giusta e sia il tempo di in un certo senso sbattere i pugni per chiedere all'Unione Europea di farsi carico di determinati problemi e anche di approfittare di alcuni fondi strutturali che ci sono proprio dall'Unione Europea per rinvertire queste zone come è stato fatto ad esempio in Germania. Luca hai parlato della Cavour, hai parlato di ammodernare il ponte per far scendere gli F-35B, ma noi abbiamo ancora gli Arrier, gli stessi Stati Uniti hanno investito e hanno deciso di investire in un piano di ammodernamento degli Arrier in attesa dell'arrivo degli F-35B, perché non definitivamente cassare gli F-35B e rinnovare gli Arrier? Allora la scelta degli Stati Uniti è dovuta al fatto all'enorme ritardo del progetto degli F-35 perché appunto loro avevano già intenzione, volevano già un aereo pronto per impiegare nei vari scenari, ma dato l'enorme ritardo, noi parliamo di anni ormai penso, se mi ricordo bene, già nel 2012 dovevano essere operativi, quindi loro semplicemente hanno riammodernato questi Arrier per prolungare un po' la vita degli Arrier in attesa di questi F-35B. Per noi il discorso è diverso, noi abbiamo gli Arrier, l'ammodernamento della Gavur ci serve perché gli F-35B sono aerei diversi rispetto agli Arrier e quindi c'è bisogno di altri interventi. Gli Arrier sono pattugliatori, forse potrebbe andarci meglio. Sì, sì, ma per noi va bene, però naturalmente ti possono dire che anche i nostri Arrier arriveranno prima o poi a fine vita e con che cosa li sostituisci, per questo ci vengono a dire che gli F-35B sono l'unica alternativa agli Arrier perché sono gli unici che ad oggi hanno questo atterraggio verticale, quindi noi andiamo ancora più indietro, nel senso che il Cavour stesso non rientra nella nostra ottica di difesa, quindi nel momento in cui non ci rientra il Cavour automaticamente nemmeno gli F-35B, quindi è questo il discorso. per adesso può essere utilizzato insieme agli Arrier, ma successivamente non vediamo l'esigenza di questa capacità. Ci sono altre domande? Sì, se non ci sono altre domande io chiudo. Ah, ok. Ok, allora io sono Giuseppe Schiavello, campagna italiana contro le mine, direttore nazionale e faccio parte di Rete Disarmo, oggi rappresento Rete Disarmo che insomma su questo argomento da sempre collabora per una... quello che voglio fare io sostanzialmente insomma è ringraziare per questa iniziativa perché sappiamo che ogni iniziativa è preziosa in questi termini e sottolineare una cosa che è già emersa. Il problema non è soltanto quello degli armamenti, il problema è la trapparenza nell'acquisto di questi armamenti. Quello che abbiamo sperimentato proprio nel lavoro in contatto con i parlamentari è quello che addirittura alcuni dati venivano forniti dagli Stati Uniti ma non forniti dal nostro Ministro della Difesa. Noi come società civile troviamo questo atteggiamento non grave, gravissimo. Cioè questo va sottolineato. Queste indagini vengono sostanzialmente in qualche modo rallentate, perché possiamo dire anche questa... quindi utilizzando dei tempi morti non fornendo delle informazioni che noi ridoniamo che dovrebbero essere prima di tutto diciamo chiari e trasparenti anche nei confronti della società civile che collabora versando uguale a parte delle proprie tasse anche per questi acquisti e sostanzialmente ancora di più per i parlamentari che sono chiamati comunque a prendere diciamo delle decisioni. Io mi soffermo soltanto su questo e su un altro piccolo particolare di questi contratti degli F-35 che riguarda anche le fasi di test di questi aeroplani perché dobbiamo ricordare che nei contratti è previsto che questi aeroplani abbiano effettuato dei test cioè quindi i vari lotti ma non è detto che li debbano aver superati perché nei contratti sostanzialmente per cui ci possono essere delle come dire in seguito nel lotto successivo delle piccole cose che vengono corrette sostanzialmente cioè verranno corrette ovviamente non compreremo un aereo che non è però di fatto è un lavoro in progress che rende ancora un pochino più debole in qualche modo l'esposizione di questa cosa. Era il caso del gancio di atterraggio sulle cose. Comunque era soltanto diciamo un intervento anche per ringraziare diciamo di questa iniziativa. Io volevo fare un appunto sulla parte di concurrency cioè del fatto in cui si lavora in produzione e in riparazione diciamo così. È anche vero e questo va detto è uno spunto e mi riallaccio anche al punto della trasparenza. È anche vero che entrando più dentro quindi volendo essere proprio presenti nei momenti e questa è la funzione parlamentare come portavoce c'è è veramente fondamentale. È anche vero che all'ultimo stadio se l'aereo non è pronto a partire non paghiamo l'ultima tranche. Questa è una delle parti fondamentali. Almeno questa diciamo è una cosa che bisogna... Sì diciamo che per dare un'idea quando io acquisto nella fase iniziale io pago il 5% alla valutazione, il 7% l'anno successivo, al terzo anno contratto alizzo e divido in tre tranche il pagamento. L'ultima della tre tranche è quella che non posso pagare se l'aereo non vola fondamentalmente. Non vola è una semplificazione insomma non vorrei essere così semplificato, arrivare a questo livello di semplificazione. Sulla trasparenza è un percorso che effettivamente a livello di ministero è stato faraginoso perché era necessario capire dove erano i dati. Una volta trovato dove erano i dati è stato come dire... Diciamo che io sono penso consapevole che d'ora in poi certe informazioni sarà più facile reperirle. Ed è un discorso che la rete di disarmo penso ne sia consapevole di condivisione che è naturale perché la nostra funzione è naturale dei portavoci. Grazie. Io volevo concludere semplicemente dicendo che noi con questo lavoro così importante, così approfondito, diamo la dimostrazione di sapere di ciò che parliamo e quando ci si muovono accuse di populismo possiamo dire a questo punto di poterle respingerle tranquillamente e possiamo dire perché l'abbiamo dimostrato con dei fatti, con dei dati reali che i populisti sono quelli come Pinotti che dicono che si possono dimezzare del 50%, Renzi ne acquistiamo uno in meno, oppure che ne so, Presidente della Repubblica del quale speriamo di liberarci prima possibile che ha dimostrato semplicemente di essere agli ordini di Obama. Noi siamo pronti a governare, queste sono le dimostrazioni. Anch'io da capogruppo mi sento di ringraziare i commissari della difesa del Movimento 5 Stelle perché ci danno la possibilità di proporci all'opinione pubblica con qualcosa di veramente sostanzioso che va al di là degli spot elettorali e quindi vi ringrazio tutti anche per aver partecipato. Se posso fare un ultimo appunto se non ti dispiardo, sicuramente questo. A qualità no? No, oltre a sulla parte del... sarebbe opportuno che certi verbali del Consiglio Supremo di Difesa venissero resi pubblici e non solamente la parte di resoconto, ma è un appunto procedurale. Noi siamo... abbiamo presentato prima questo resoconto in commissione e poi dopo due o tre giorni l'abbiamo fatto e quindi gli altri colleghi parlamentari hanno avuto la possibilità di vederlo perché il rispetto delle istituzioni nasce anche nella voglia di volerli rispettare. E quindi all'averlo presentato prima in commissione e successivamente alla stampa è un discorso di serietà che altri non hanno e, come mi suggerisce il collega, a differenza di altre relazioni non è di altre forze politiche, non è un copia e incolla. Questa è frutto dello studio e della professionalità che noi come commissari della Commissione di Difesa e che mi sento dire tutto il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, Giuseppe aveva perfettamente ragione, non è populismo, è concretezza, ha fatto in questo anno. Grazie. Grazie a tutti, per chi vuole ritirare l'indagine conoscitiva e la PDL su libro bianco qui sono disponibili delle copie, grazie.